Sull'edilizia scolastica e sull'accordo comune ANAC è scontro tra il sindaco Biondi e la deputata del PD Stefania Pezzopane. Stefania Pezzopane vuole presentare un provvedimento che ha bocciato solo a fine novembre. Accolgo con favore il pentimento dell'onorevole Democrat che si dice pronta a farsi pomotrice di un emendamento al decreto 1000 proroghe finalizzato al prolungamento dell'accordo tra Comune dell'Aquila, provveditorato alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna e Autorità Nazionale Anticorruzione per dare nuovo impulso all'edilizia scolastica. La fondo è del sindaco Pierluigi Biondi che si rivolge alla deputata Dem Stefania Pezzopane che ha dichiarato di voler presentare un emendamento al 1000 proroghe per il prolungamento dell'accordo tra il Comune ANAC e il provveditorato. Si tratta, ha detto il sindaco, della stessa proposta al decreto Sisma di cui l'esponente del PD è stata relatrice in ottava Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici alla Camera inserita nel pacchetto di norme presentato dal Comune dell'Aquila contenente, tra le altre cose, misure finalizzate ad accelerare la ricostruzione pubblica e delle scuole. Già va a ricordare tre cose che chiedevamo di prorogare sino al 31 dicembre 2022, l'intesa con provveditorato e ANAC che la stessa non avrebbe comportato alcun onere per le casse dello Stato ma soprattutto che su quello specifico provvedimento la Pezzopane ha espresso parere contrario al momento del voto della legge di conversione del decreto in aula a Montecitorio, evidenzi a biondi. Delle due l'una o la parlamentare del PD si è accorta di aver commesso un errore durante la votazione oppure ha ritenuto valida la nostra idea. Stefania Pezzopane ha precisato invece che l'emendamento al mille proroghe riguarda la proroga al 2021 dell'accordo sottoscritto per la semplificazione dei processi di ricostruzione delle scuole sotto soglia comunitaria. Quelli presentati dal sindaco in serie di discussioni del decreto Sisma, ha detto ancora, intendevano invece modificare quell'accordo per estenderla tutta la ricostruzione pubblica. Peraltro nel corso della conferenza stampa della Pezzopane nei giorni scorsi sulla mancata ricostruzione delle scuole la deputata ha criticato duramente le proposte emendative di biondi al decreto Sisma. Quegli emendamenti, le parole della Pezzopane in conferenza, proponevano due cose estendere la deroga al codice degli appalti contenuta nell'accordo sottoscritto da comune ANAC e provveditorato nel 2018 dalle scuole a tutta l'edilizia pubblica e rendere il ricorso al sostegno del provveditorato nella progettazione non obbligatorio. Il comune, rendendo in sostanza facoltativo il ricorso all'appoggio del provveditorato, voleva un potere esclusivo sugli appalti pubblici.